...è stato per conseguire un titolo di studio e le opportunità che questi strumenti possono fornire sia alla scuola, quindi ai ragazzi in formazione, ma anche alle imprese. E nella seconda parte invece una bella relazione su un'esperienza di alternanza scuola-lavoro, un'esperienza di eccellenza molto ben seguita, documentata e valutata. Quindi tutti questi strumenti, a partire dall'alternanza al rafforzamento della filiera tecnico-professionale, a una maggiore conoscenza degli istituti tecnici superiori, tutti questi strumenti servono per creare quella alleanza scuola-lavoro di cui io parlo molto spesso e che Regione Toscana sta cercando di consolidare e finanziando anche non tanto interventi puntuali, ma proprio interventi che derivano da una co-individuazione dei fabbisogni formativi e una co-progettazione di interventi fra mondo della scuola e mondo delle imprese.